Sono troppe e circolano troppo facilmente. Come testimoniano i diversi video che in questi giorni stanno facendo il giro del web, alcuni dei quali sono stati inviati al deputato dell'Alleanza Sinistra Verdi, Francesco Emilio Borrelli, le armi e la pratica di impugnarle e sparare all'arrivo dell'anno nuovo non sono un qualcosa ormai in disuso. Anzi, ce ne offrono una testimonianza concreta agli episodi di cronaca registrati nel napoletano all'inizio di questo 2024, con una donna ferita alla schiena nel cuore di Napoli da un proiettile vagante, arrivatole in casa dall'esterno e con la tragica morte di Concetta Russo ad Afragola, colpita a morte da suo nipote che aveva acquistato illegalmente una beretta apposta per le celebrazioni del Capodanno. In merito si è espresso il primo cittadino partenopeo e sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi. È un cattivo costume che resiste ancora in alcune zone di Napoli e dell'area metropolitana, ha rilevato il primo cittadino. Lo abbiamo visto da quanto accaduta ad Afragola e nel quartiere napoletano di Forcella. Preoccupa sempre la facilità dell'uso delle armi abusive usate senza responsabilità. Sparare in un'occasione di festa, ha concluso Manfredi, è l'evento più assurdo e stupido del mondo, ma avviene e crea tragedie come quelle che abbiamo vissuto in questi episodi di inizio 2024.